La prima giornata di ritorno del campionato di Lega Pro Gruppo B sorride al Forlì, che mette un freno alla marcia della capolista Venezia. Nel primo tempo combattutissimo, al quarto Cappellini innesca la manovra. Bardelloni dal limite tenta il tiro murato, poi ci prova Tentoni, il cui destro finisce tra le braccia di Facchin. Al trentatresimo, sugli sviluppi di una punizione di Sereni, dalla distanza tenta la via del gol Camarotto. Di nuovo Facchin è attento. Il Venezia alza i ritmi e dalla sinistra confeziona una buona occasione. Il cross in mezzo trova il copo di testa di Geico, Turrino vola sul primo palo chiudendo il primo tempo. Azione fotocopia ma dall'altra parte del campo al quarantottesimo, questa volta è Modolo che però spedisce alto sopra la traversa. Il match rimane fermo sullo 0-0, ma le squadre continuano a giocare a viso aperto, finché al sessantaseiesimo Spinosa se ne va in verticale e appoggia per Bardelloni che di tacco serve Cappellini. Il suo destro dal limite viene deviato da due difensori e finisce in rete portando in vantaggio il Forlì per la gioia del pubblico folto del Morgagni. Inzaghi corre ai ripari e tenta il tutto per tutto per agguantare il pareggio, sfiorato dalla doppia conclusione di Moreo che trova il palo a negare il gol. Il risultato non si schioda nemmeno al 94esimo con la colossale occasione sprecata di Geico da due passi dalla porta.